200 euro secondo me sono pochi, dovrebbero lasciarli a terra, dovrebbero fare come una volta che chi non paga il miglietto resta a terra. Inasprire la sanzione può essere una soluzione, però se poi dopo mancano i controlli... Giro di vite in autobus, trocchi elettronici, multe più salate e controlli. Là dove il cittadino non arriva di propria civile iniziativa, subentra, ahi noi, la legge. In una bozza della manovra bis arrivano misure urgenti per la lotta all'evasione tariffaria. E così ora i gestori dei servizi di trasporto pubblico potranno affidare la prevenzione, l'accertamento e la contestazione delle violazioni anche a soggetti non appartenenti agli organici del settore. Le telecamere interne e i mezzi di trasporto o sulle banchine potranno dunque fornire prove dell'evasione. La violazione degli obblighi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di questa, la sanzione sarà pari a 60 volte il valore del biglietto ordinario, per un massimo di 200 euro. È un po' alto come prezzo, però alla fine bisogna rispettare quello che è stato deciso. Se l'autobus è in ritardo di oltre 30 minuti, si propone anche il rimborso del biglietto? Assolutamente sì, perché è veramente un disagio quando ci sono questi ritardi. In cambio, di fronte all'inasprimento delle molte, il viaggiatore sarà risarcito del biglietto acquistato qualora il bus accumuli un ritardo di oltre mezz'ora. Va bene, va bene, rimborso. Sarebbe un brutto colpo per le compagnie che già non sono... Sono in ritardo anche in Toscana? Sì, sì, sì.